Oggi facciamo la caccia al tesorone bellissimo E infatti Sì è bellissimo e poi Allora tu mi dovrai condurre al tuo tesoro Che hai nascosto vicino Non so dove in realtà l'avrai nascosto da qualche parte E tu mi dirai dove si trova Magari con degli indizi Magari ti chiederò io delle cose Quindi tu dovrai cercare di spiegarmi bene Quindi forza inizia dammi il primo indizio Allora allora il primo indizio Allora Però più forte È un blocco molto strano diciamo Ok è un blocco molto strano Probabilmente non sarà verde Ok quindi non verde quindi non l'erba Ragazzi sono un genio della natura Anatomia Mistica Non lo so è molto curioso Perché potrebbe essere dappertutto per esempio Potrebbe essere questo fiore Sotto qui E però hai detto che infatti non è verde Infatti sono stato sciocchino Perché ho detto ho preso quello Ma sono stato cogliupero Per non dire qualcos'altro E dimmi un altro Piccolo indizio Non troppo ma piccolo Tipo se sto andando bene oppure no Sto andando bene da questa parte Allora Diciamo di sì Ok diciamo di sì Dovresti alzare la voce tu Perché Esatto esatto Scusami Ok bene Di più Di più Ok Bene però Di più E come faccio così? No troppo Troppo Ok Così va bene Ok sì così va bene bravo Ok ok Allora Ho un altro consiglio? Sì assolutamente sì Perché sono molto Vicino a questo blocco strano C'è un blocco che si muove Cosa vuol dire? La mia testa sta per esplodere ragazzi Sta per esplodere in 30.000 parti diverse Lo sapevate questo? E sarebbe molto Ma è prendendo la via sbagliata Oh no E dimmelo Non ti do il fiore perché Ti sei stato cattivo Però dimmelo Se sto prendendo la via sbagliata Ok Ora ti stai andando per bene Ok Sono contento di questa cosa Eh sì Ma vuoi per caso un altro consiglio? Sì Scusa ero impegnato ad uccidere i maiali Perché mi stanno sul Mi stanno antipatici ecco Diciamo No perché A volte nella vita devi sapere Che ci sono persone antipatiche E anche animali antipatici Tipo tu sei un animale antipatico Scherzo ti voglio bene Ok 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 dimmi questo indizio Un altro consiglio Però svegliati Scusami Allora Diciamo che Ci si va di estate Ok ci si va di Quindi immagino una spiaggia giusto? Ci si va di estate Esatto O tipo un bar Però il bar su Minecraft Non ci sono I bar ma poi Tipo una gelateria No si va in estate Una roba del genere sì Va bene Quindi ecco tipo qua Già inizia una spiaggia Esatto Potrebbe Potrebbe essere qua Tutto questo Me lo auguro Assolutamente Perché Se non è qua Urlo in giappocinese antico Anche perché Non so come sia Il giappocinese antico Io lo sto dicendo Perché è importante Sapere in che lingua Si urla Ma che nel tuo è il giappocinese? Ma non lo so C'è una lingua un po' Astrusa Tu non so se la conoscevi Però mi mangio una golden apple Perché Volevo Farti fuori Oh no 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 Ok bene Adesso che ti ho fatto fuori No perché a volte sai Nella vita bisogna anche Saper Diciamo essere Come dire Essere capito Veloce Ok perfetto No perché ci hai messo troppo A venire qua Stupido ignorante Però insomma Essere troppo Un po' meno istintivi Di me dico Perché io sono stato troppo istintivo Però Vabbè Diciamo che va bene anche così Devo dire che sei molto vicino Diciamo Ok quindi potrebbe essere Forse lì E dai Questa mela non mi fa andare più veloce Non mi fa Mi farà allentare in realtà Non devo farlo mai più Mai più Chiaro? Mai più mangiare le mele d'oro Sì Proprio così Mai più mangiare le mele d'oro Fanno schifo Sì Comunque A parte questo momento di imbarazzo Capisco tutti quanti Che voi vi possiate essere imbarazzati Per questa cosa Ma Tranquilli ragazzi Perché c'è nel senso Mentre mi ascoltate Mentre Ascoltate me che parlo Vedete quest'erba bellissima Vedete quegli alberi bellissimi E poi vedete queste nuvole Che peraltro sono Molto Molto carine Devo dire A me piacciono Poi vedete questo sole Stiamo discorrendo un po' troppo Diciamo che Stiamo pregando l'obiettivo Poi sentite Mozzo che parla di cose sue Che mi interrompe a caso Non lo so Perché io volevo dire Una cosa importante E mentre vedete Questo Quest'acqua qui E quindi mentre mi ascoltate Vi rendete conto Spero Che Questo è un gruppo bellissimo Perché Praticamente Posti a punto 1 O punto 1 E' pieno di amici E poi punto 2 Potete farvi gli amici Voi insieme Perché magari Vi trovate tipo online Io mi immagino Tipo anche sul nostro server Discord Se venite Magari vi trovate online E vi potete fare amici E poi vi sentite tutto quanto Oh ho trovato L'ex rozz E infatti No ma come hai fatto Questa cosa mi ha confermato Che io Insomma Che questo gruppo E' bellissimo Ma si ma infatti Le mie parole sono magicissime Venite sul nostro server Discord E venite a parlare con noi Stati in questo gruppo Bellissimo di Youtube Perché siete il nostro popolo Popolo grandissimo Enorme Bellissimo Esatto Tutti amici Oh yeah Bene Adesso No però ti ruba Ho fatto il tesoro Non dovrei fare così schifo Però tieni questo tesoro Dai Oh grazie Thank you Oh prego Adesso Ragazzi Tu metti Mettiti con la testa così Tipo Non devi guardare Se no urlo Allora Andiamo da questa parte Questa parte Ma cosa hai fatto Mozzo sciocchino Sono caduto da un albero Aiuto Non cadere Allora se tu cadi Poi dopo Magari va a finire Che ti rompi una gamba Per dire no Oppure ti rompi Ma la Ma mi stai seguendo Ti ho detto di non seguirmi Perché mi stai seguendo Ma vai via Vado via Aiuto Ho spaccato le orecchie Madonna quanto ti detesto Lo so che ti ho spaccato Ma ho fatto bene Ma ragazzi Ma voi non fareste così Secondo me voi fareste Allora Vedete questa cosa Avete capito bene Avete capito bene Avete capito perfettamente Adesso Mozzo Quando io ti dirò Determinate cose Ti farò vedere Cioè ti farò vedere Ti farò capire Dove sta il mio tesoro Che voi già sapete dove Perché l'avete già visto Giustamente Dove saresti? Dimmi un pochino Un pochino Dove saresti? Ti faccio venire io Perché sei sciocchino Oh la magia Che bella Molto bella Allora Vediamo un attimo Forza Ti do il primo indizio Oh il tesoro Si trova sugli alti Non per terra ecco Diciamo non per terra E quindi Stai parlando Bass Ok 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 Bene Va bene Ricordati Allora secondo me Dovremmo salire tipo In qualche modo Sì Certo Perché se non è per te Però non è che devi salire in cielo Dovresti cercare un posto Dove non tocca per terra Quindi pensaci Pensaci bene E soprattutto Adesso Dobbiamo cercare Beh quindi tipo Scegli una direzione Vai no Quindi forza Scegli una direzione Adesso andrò Dritto verso di qui Ok bene E poi quando io finisco di parlare Dovresti rispondere tu Sciocchino Sciocchino scusa 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 Che scurreggi Le pecole No Non si di Ma perché hai detto Questa cosa Sei cattivo Con 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 gli altri Io mi dissocio Comunque nel caso Perché Dissociamo Sì Non so se Vabbè Non so se funziona così Funziona per gli altri Mi sa Mi dissocio Vabbè però Tu adesso Scegli forza Dove dovresti trovare Questo tesoro Dimmi un pochino Allora io sono molto indeciso Perché il tesoro Può essere ovunque No Sì certo Però non per terra Ovunque ma non per terra Allora Ti sei vai Vediamo Dove Secondo me Mettila di ripetere Allora E poi parma Allora Mozzo Allora ti spiego cosa devi fare nei video Dovresti parlare E cercare di articolare Un discorso Nel modo più corretto possibile E inoltre dovresti parlare Ad un volume giusto Quello che tu non stai facendo Soprattutto perché io adesso Mi sono alterato Quindi tu adesso Da ora in poi Cerchi di parlare bene Grazie Punto Va bene Bene Forza inizia Vai Veloce Forza Ok ok Seguimi Mannaggia che non Che tasti sto premendo Sto premendomi le tasti Perché Mi è partito pure la rabbia al tasto Guardate voi Allora Per favore Mi puoi consigliare un altro consiglio Per favore Allora un altro consiglio Non lo so Allora Questo tesoro È nascosto Su una parte verde Non però per terra Quindi già qui Potresti Aver presente Ciò che io sto dicendo Forza Dimmi un po' Le foglie degli alberi Sicuramente Molto bravo Però Il fatto è che ci sono un po' di foglie Esatto Questo consiglio Non mi è servito tanto Vabbè Cerca Scusami Vai un po' a logica no? Eh Un po' a logica Eh no Scusami Se prima tu Cioè se no Allora Se tu prima mi hai seguito E poi io subito dopo ho detto Che ragazzi avete visto Tu quindi Puoi capire Che questa cosa Che questo tesoro È vicino al posto Dove io ho detto No prima Eh Potresti andare a logica Potresti andare a logica Non ci hai pensato Sciocchino Scurreggione Quindi Eh ma Perché Perché Non Cioè non avevo visto Il tragitto che hai fatto Comunque tu dovresti migliorare molto A parlare Abbiamo ancora molto lavoro da fare Ti devo fare Salta Salta bene Salta Prima te Eh Sì Hai visto La magia La magia La magia No ma è che Ho delle gambe talmente potenti Che tu non hai la minima idea di ciò che io riesco a fare con le gambe No lo so Dura l'allenamento Tipo sono il meglio Eh no Che cazzo Sono il Come che si No non lo Stai zitto Non ho detto niente Sono i Allora sto cercando di dire una cosa normale Però non ho detto niente ancora fino alla Allora sono il Avete presente Ah il Midoriya dei Dei ricchi no Perché Non dei poveri ma dei ricchi Perché chiaramente Sono molto simile a Midoriya Infatti ho delle gambe Che faccio lo smash con il piede Non avete Ma voi avete mai visto My Hero Academia Che anime guardate voi E' bellissimo Scrivetelo nei commenti Bellissimo Hai ragione Adesso da ora in poi Io e te saremo compagni di My Hero Academia Esatto esatto Bene Mi puoi dire almeno il tragitto che devo fare Grazie Allora il tragitto No stai andando bene Ecco Mi sa che l'hai già vista Se non l'hai già vista Sei cecato Però Non credo che tu sia così tanto Ma forza Mannaggia Mannaggia che non salgono Ok forza E' un po' più a destra Un pochino più a destra Oh eccolo Finalmente Mi sento stanco comunque Guarda dove l'avevo nascosto Mannaggia a te Anch'io sono stanco Eh diamanti Finalmente No dovresti darmeli Oh festa 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 Oh yeah Festa 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 con i diamanti Yeah Bene Mettete un diamante nei commenti O mettete l'oro O mettete qualche volete Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao ragazzi Ciao